Grazie Presidente. Anch'io voglio iniziare questo intervento manifestando solidarietà ai territori, alle popolazioni colpite dai nubefragi che si sono riversati su Piemonte, Liguria, Lombardia, sul nostro Paese. E lo faccio in questa occasione a maggior ragione dopo le dichiarazioni di un rappresentante del Governo che al posto di esprimere giudizi dovrebbe individuare soluzioni. Mi riferisco al Ministro Costa che dal caldo e comodo ufficio del suo Ministero si è permesso di accusare coloro che non sono solo primi cittadini nel rappresentare una comunità, ma lo sono anche nell'affrontare l'emergenza, che in questi giorni insieme alla propria comunità stanno affrontando con le loro mani, con il loro impegno in prima persona, il tentativo di risistemare ciò che il maltempo ha devastato. Quindi a loro va sicuramente il nostro rispetto, a prescindere dall'appartenenza politica, perché loro lo meritano, meritano rispetto. Oggi fare il Sindaco significa cercare di dare risposte alle proprie comunità senza mezzi, senza personale, a volte senza nemmeno le gratificazioni che derivano dal loro impegno. Ed è vergognoso che un Ministro affermi che il dissestro idrogeologico non è mai stato affrontato non per carenza di fondi, ma per le carenze dei comuni. Allora, se un Ministro di questo genere ha il diritto di rappresentare il nostro Paese, io credo che siamo scaduti a livelli bassissimi. Quello stesso Ministro che in tutti i provvedimenti che abbiamo portato avanti anche in questi mesi è stato sempre il signor no. No ad ogni tentativo anche del nostro Movimento di apportare modifiche correttive a un sistema assolutamente ingessato. No anche in questo decreto alla richiesta di stanziare 100 milioni, una cifra che ritenevamo ragionevole in un provvedimento che ne stanzia 25 miliardi, per dare le prime risposte al dissesto idrogeologico. Noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo presentato all'emendamento, l'abbiamo discusso con la maggioranza, l'abbiamo discusso col Governo, ma la risposta è stata no, ci sono altre priorità. Stiamo vedendo, ahimè, anche in queste ore, che questa è una priorità del nostro Paese e voi non la state affrontando minimamente. Intervengo un po' in modo senza grande entusiasmo rispetto a questo provvedimento perché è il quinto di questa fase emergenziale dopo il Cura Italia, liquidità, semplificazione, rilancio e hanno ormai lo stesso tracciato, cioè una direzione che non è la nostra, non è assolutamente la nostra, rappresenta una visione, dite voi, ma a nostro avviso una visione lontana, anniluce dalla realtà, dalla drammaticità che c'è nel nostro Paese, che c'è tra lavoratori, imprenditori, artigiani, commercianti che voi non sentite. La situazione oggi è paradossale, paradossale perché è in un certo senso calmerata dallo stanziamento di questi 100 miliardi che voi avete versato nella spesa pubblica, ma che vanno a affrontare solo in via emergenziale, con la cassa integrazione, con sussidi, con indennità, con contributi, con bonus, che non risolvono assolutamente il problema che sta vivendo il nostro Paese. I problemi che voi state gestendo si ripeteranno e si manifesteranno in tutta la loro drammaticità quando queste risorse finiranno e prima o poi questi stanziamenti finiranno. Ne avete spesi 100 quest'anno, avete intenzione di spenderne altri 200 l'anno prossimo con il Recovery Fund, ricordando che tutte queste risorse sono a debito, non sono risorse che sono nelle disponibilità del nostro sistema produttivo. Voi vi indebitate, è opportuno indebitarsi, ma se ci sono soluzioni strutturali, non se ci sono forme di sussidi e indennità che lasciano il tempo che trovano, che rinviano il bar attroverso il quale stiamo andando. E qui si rispecchia la differenza di mentalità tra la vostra parte politica, la parte politica della sinistra e dei 5 Stelle che, almeno dal punto di vista economico, hanno la stessa visione, e la nostra parte. Noi riteniamo che è evidente che tutte queste forme di sussidi e di indennità sono finanziate e sono finanziate o a debito o con l'arcolta delle tasse. Noi abbiamo una visione diversa, no a indennità, no a sussidi, non a redditi di cittadinanza o di emergenza. Lasciamo i soldi nelle tasche delle famiglie, degli imprenditori, dei commercianti, degli artigiani, perché possano lavorare, dare posti di lavoro e in questo modo avere una società sana, costruita sul lavoro, non su sussidi o su forme emergenziali come quelle che voi proponete. Voi avete una visione dell'economia assolutamente distorta. Pensate che il nostro Paese possa vivere con questi strumenti, ma è evidente che prima o poi il castello crollerà. Ci troviamo ormai in una situazione in cui la barca fa acqua da tutte le parti e voi continuate a mettere delle toppe a destra, a manca, in varie direzioni, senza trovare le soluzioni definitive. Bisogna alleggerire il carico e il carico è fatto di tasse e burocrazia. Sono stati approvati in questi tre anni due decreti che dovevano semplificare il mondo degli appalti col nostro governo, sicuramente ostacolati da una visione dei 5 Stelle che non era la nostra e infatti quel decreto non ha raggiunto tutti gli obiettivi che doveva raggiungere e con un semplificazione che altrettanto e allo stesso modo non ha semplificato assolutamente nulla. Ci vogliono scelte coraggiose nelle situazioni drammatiche e noi stiamo vivendo una situazione drammatica. Non servono interventi di sopravvivenza, di galleggiamento come quelle che voi state portando avanti. Serve una rivoluzione e la rivoluzione passa da una drastica riduzione della pressione fiscale e da una drastica riduzione del carico burocratico nei confronti di chi lavora. Questi obiettivi voi non sapete cosa siano, anzi li ostacolate perché voi avete la mentalità tendenzialmente che chi lavora in proprio sia un evasore fiscale e va combattuto e va ostacolato e che la burocrazia serve perché tendenzialmente siamo tutti disonesti e per impedire che i disonesti facciano quello che vogliono, ci vogliono regole infinite, impossibili da gestire e da affrontare per chi lavora. Alla fine voi raggiungete solo un obiettivo, chi è disonesto lo rimane, riesce a evadere, riesce a evitare la burocrazia e fa quello che vuole nonostante tutti i vostri lacci e laccioli e registro anche che dalla nota di aggiornamento a DEF che avete da poco sfornato si presume ancora adesso di poter raccogliere ingenti risorse dalla lotta all'evasione fiscale. L'ennesima fantasia, l'ennesima follia. E dall'altra non vi accorgete che col carico fiscale enorme voi fate chiudere le aziende, fate chiudere attività artigianali e attività commerciali, fate sì che quelli che erano dei lavoratori oggi diventino dei disoccupati, che abbiano bisogno di sussidi, di cassa integrazione, di redditi di cittadinanza e con la burocrazia mettete fuori gioco gli onesti che vogliono e si trovano costretti ad empire a tutte queste forme di vincoli da parte dello Stato e fate sopravvivere chi invece riesce a evitare con la disonestà tutte queste procedure. Questo è il modello di società vostro, è un modello di società che sicuramente porterà al fallimento di uno dei sistemi economici più all'avanguardia del nostro Paese e questo è il dramma che stiamo vivendo. Nella totale silenzio e indifferenza in una situazione surreale in cui non ci stiamo accorgendo che finiti i 100 miliardi, finiti i 200 miliardi del recovery fund avremo solo più debito pubblico senza aver minimamente affrontato quella sfida di cambiare la pressione fiscale e carico burocratico che oggi più che in passato dovevamo affrontare. Avevamo un'occasione storica con tutte queste risorse che l'Europa generosamente ci ha autorizzato ad utilizzare a debito, non lo stiamo facendo. L'occasione la stiamo perdendo per colpa vostra, per l'ennesima volta voi caricate cittadini e lavoratori di burocrazia e tasse e condannate tutti noi a un inesorabile declino. Speriamo che finisca questo periodo ma il rischio è di raccogliere solo le ceneri. Grazie Presidente.